E' di tre feriti il bilancio dell'incidente che si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi a Ponte Nossa lungo la strada interna del polo commerciale di Via Europa. Per cause ancora in corso di accertamento un fuoristrada si è scontrato con una Fiat Punto dell'Auser di Parre. Sul posto sono intervenute due ambulanze del corpo volontari Presolana e della Croce Blu di Gromo. Dalle prime informazioni sembra che i feriti non siano in gravi condizioni.